Un centro di salute e benessere presso i meravigliosi ma decaduti spazi dell'ex Sanaclero. L'idea non è un sogno, ma un intento concreto nei pensieri dell'imprenditore dei trasporti Eleuterio Arcese, che si dice disposto a puntare sull'ex sanatorio, noto anche come Villa Angerer, ora abbandonato e in completa rovina. E lo fa insieme al professor Luigi Fontana, medico 48enne, luminare nel campo di nutrizione e longevità di origini rivane, ma noto nella comunità scientifica internazionale. Rimasto impressionato dal curriculum e dalle competenze del brillante scienziato, ora professore ordinario a Brescia e alla Washington University, Arcese ha subito sposato il progetto di un centro sul modello di quello meranese di Henry Chenot, dove i clienti sono disposti a pagare fino a 1600 euro a notte per ritrovare benessere e forma. L'imprenditore auspica di non essere lasciato solo. Sarei disposto ad occuparmene io, ma non voglio si pensi che metto le mani sulla città. Che opero per speculazioni private, sottolinea Con Decisione, così auspico che ci siano altri imprenditori, magari locali, concretamente interessati al progetto e pronti a formare una cordata. Si lavori tutti insieme per questo paese. E quindi Arcese azzarda una proposta. La miglior cosa sarebbe che i cittadini che amano Arco contribuissero con una quota, anche modesta, come investitori e che poi raccolgano i dividendi. In questo modo la struttura sarebbe sentita come davvero appartenente alla sua comunità, con i cittadini soci che grazie ai propri sforzi generano indotto e posti di lavoro. Il primo passo per Arcese o la sua eventuale cordata è dunque quello di ottenere la struttura dalla provincia con la formula di un comodato d'uso, così da poter restituire il bene restaurato al comune una volta trascorsi gli anni dal suo nuovo utilizzo. Restituire alla cittadina la vocazione di cura e soggiorno tanto cara a nobiltà e borghesia della Mittel Europa, selezionare un turismo di fascia altissima, creare posti di lavoro e generare indotto. Ma il progetto di Arcese raggiungerebbe anche lo scopo di riportare nell'Alto Garda un cervello in fuga, il professor Fontana, che si dice disponibile ad applicare la sua conoscenza per la rivalutazione della zona. Così commenta Fontana. Il centro di Arco godrebbe del valore aggiunto di una solida base scientifica in collaborazione con l'Università di Brescia. Circa i tempi per l'avvio dell'iter che svilupperà il progetto, Arcese è molto concreto. Fosse per me lo farei domani, ma naturalmente tutto dipende dalla forza della politica e del sindaco.